Quali sono gli ultimi aggiornamenti, le ultime novità per quel che riguarda la presenza di amianto all'interno della base militare della Spezia a Marola? Se ne ha parlato per lungo tempo, i cittadini chiedevano delle risposte e delle risposte sono arrivate da Roma. Sì, le risposte sono arrivate. La presenza di amianto è in dubbia sicuramente, sono coperture in amianto, quello si sapeva. Era un po' da valutare la consistenza di queste strutture, perché un amianto che non è ancora friabile, quindi compatto, non rappresenta un problema. Pur con la problematica che l'amianto è stato bandito e ovviamente va bonificato. La novità è che dopo le interrogazioni fatte subito, dopo quel meteo avverso che riuscì anche a sradicare alcuni pannelli, ovviamente siamo riusciti a ragionare, a fare capire al Ministero la problematica in essere. E a questa, dopo non poca fatica, perché sono ormai sei mesi che ne discutiamo forse qualcosa di più, hanno ammesso questa problematica e provvederanno a breve, intanto a stanziare denari per affidare le progettazioni e il coordinamento alla sicurezza e poi, quindi fine anno, iniziare nel 2020 anche le bonifiche, che nel 2020 inizieranno per due capannoni e per il terzo poco dopo. Quindi entro il 2021 si prevede di bonificare completamente l'area. Si parla di 600 mila euro per questi primi tre interventi, però ci sono sicuramente delle altre aree, degli altri edifici che meritano attenzione in questo senso. Naturalmente la storia di quella base è un po' la storia d'Italia e naturalmente sono successe tante cose in questi anni. Massimo riguardo, soprattutto per quanto riguarda anche la situazione ambientale. Però naturalmente è già un grande risultato, a mio avviso, iniziare a partire con dei progressi. E questo di aver riconosciuto che in effetti la problematica esiste e porre rimedio in tempi così brevi, diciamo che lo prendiamo come un merito per adesso. Però naturalmente facendo parte anche della Commissione Ambiente, principalmente nella mia persona, naturalmente seguirò la cosa perché è utile restituire dignità al quartiere, soprattutto quello di Marola, che deve convivere in una situazione ambientale di questo tipo. E quindi naturalmente il nostro impegno sarà massimo. Grazie. Grazie. Grazie.